ciao a tutti ragazzi sono petro il tanke e ci sono sempre io se in vabbè penso sapete chi sono se in x-ray se non avete visto i video prima dovete vederli se non li avete visti avete capito è una minaccia di morte viene lì e vi tossisce in faccia ecco allora questa volta stiamo su unit for speed most wanted e inutile che ti muovi sto decidendo la gara vado su una facile dato che sto gioco l'ho preso natale e ci ho giocato solo domenica scorsa allora ecco sono in gioco una Lamborghini vi dico che ho provato a usarla in due secondi fa gli ho già distrutto la macchina perché non curva niente un accipicchio un acci d'erbolina ops ma lui mi vuole battere e distruggere la sua macchina ma no che poi non è mia qui la trovi in giro una sorta di gta però con dei punti dove prendo e prendi l'auto ma se alziamo un pochino vivendo ti raccomando che lì è lontano aia sto tossendo basta basta gira ah conto ah dai prendiamo questa le Lamborghini le Lamborghini guardate domenica scorsa sono andato a Milano a vedere la partenza per il cinquantesimo universale delle Lamborghini e ho perso il segnale e c'erano più di 305 e più di 370 Lamborghini non gli interessa comunque si ma erano belle ma non gli interessa ma poi è cambiata è diventata difficile ah perché a seconda dell'auto allora riprendi quella scusa è molto trovarla quella è dietro di te no non è dietro di me sei andato dietro proprio quella è distrutta facciamo così va andiamo a prendere questa macchinetta penso che sia questa quella bella umpa loompa allora andiamo umpa loompa che bella ce ne erano di conta comunque andate sul profilo di facebook Alan Pigatto anzi Alan Ibra Pigatto e guardate le foto per il momento ho messo solo quelle di Monte Carlo poi devo mettere quelle da Lamborghini dopo averle viste potrete correre nudi e dopo che avrete il corso nudi ma perché tutte le volte devi dire la parola nudo mi piace quella parola aspetta che non ho una macchina segui il petugino prendiamola dai ma no no pomodoro magari mo diventa facile una gara oh c'è la polizia qui la polizia deve andare pure lento se no sono ti mangio si è vero mi rimane mangiata la macchina ma dobbiamo cercare un'altra gara facile ma vedi che sei un bambino senti andiamo qui va punto non devo raccogliere eh ma per cambio non ho sbloccato un nuovo punto sblocco e andiamo con una bella porsche come il break of the 2 il punto sblocco esatto peccato che si sono al master prestigio e non ho bisogno dei punti sblocco e io al prestigio 1 sei oh ragazzi quasi prestigio 2 e dovete sapere che passando qua dentro vi dovrebbe cambiare colore e ve la sistema torna indietro cosa che devo tornare indietro perché era brutta hai rompia meglio così hai la soddisfazione giusto e adesso c'è la rossa raccoglu ahio di sotto la faccina ai cani verdi non esistono cani verdi eh queste cose esistono si accendimi internet devo andare a cercare scommetto che lo trovo ma vaffolo dai cerca cani verdi non voglio quelli della macchina guardate come va dove c'è ahia 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 ah era la macchina io me lo sto andando no 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 sto cercando su internet cani verdi ma se c'è la televisione se c'è il pietro acceso eh meglio lo guarda ma che bella mi prendono una bella sls feci cani verdi che schifo ma non c'è immagini relativi a cani verdi no immagini relativi a feci cani verdi prima cani verdi lei bella poi così ma fai il capo di gare che poi è olensions se ti can рек suggerimento anche cani più cani rossi davvero sì no si trovesse ancora da doppia eccola qui il canito verde no ma aspetta ma il colorato è un cane vero è un cane vero e perché c'è la foto della Lazio che butta fuori la palla perché è verde la palla comunque c'era un cane verde ragazzi non possiamo farvelo vedere perché siamo perché non siamo capaci di metterlo esatto siamo delle checche dell'informatica e pensate che facciamo schifo schifo facciamo ragioneria te stai dicendo beh non lo so ma te mi sembra che domani devi superare il debito dell'informatica stai zitto ma però io no però te mi ha detto io dico che l'hai già superato però ti faccio fare la verifica ma sei down hai capito? oh come ti permetti scusa down scusa scusate ecco qui cos'è che è una gara di nudisti corri nudo beh magari dentro in macchina è nudo ma hai ragione non sono dell'idea che l'auto non gira non possiamo proprio cagare schifo no non è che fa cagare non gira l'auto ma che terapata zappata sì zappata zappata aspetta stavo rispondendo al messaggino al messaggino a meno che non mangio una carota stavo lo calzano stavo parlando con la mia bellissima ragazza comune anna se sei un forever a nonno non è colpa nostra io sono forever non sono forever solo oggi lui dovete sapere che è fidanzato stavo dicendo che stavo dicendo che ho superato in curva 1 e io stavo dicendo che sei fidanzato con una ragazza bellissima ma non la conosci? c'è esso stoffa venimi magari scusate a me se mi schianterò perchè sto pensando a Jackson non scherzi vabbè comunque parliamo di cose serie totti ha fatto un bellissimo gol ha aperto una spiaggia di nudisti noi non ti fiamo totti però ha fatto un bel gol ha aperto una spiaggia di nudisti muro pensavo fosse una rete da distruggere non hai tennis volevi andare alla spiaggia di nudisti di Totti non voglio andare sulla spiaggia di nudisti lo sai che c'è una mclaren di Totti si sarà di Totti d'acqua supera la fine al traguardo levati da Luskadolos da Totti oh ma brutto beduino peloso stai dicendo che Totti ha aperto una spiaggia di nudisti ah nudistilandia Petru sarà il primo ad andarci si vestito ops ho fatto una nera propria della patern non posso perdere la fine tu hai una mente distrutta io ho una mercedes che sfigato che sfigato che sfigato ah che bello che sfigato cioè l'ultimo mo no dai no dai io sto morendo eh seconda posizione sto per dire scommettiamo che faccio meglio di te ma adesso non posso più dirglielo vuole dispermi la sfida most haunted si che cos'è applica non lo so oh no no non vale fare un'altra gara no 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 è continua stai mentendo guardate vi dobbiamo fare vedere che si bucano le ruote dopo un po' vediamo vediamo se riesco vediamo se riesco jingle bay jingle bay jingle bay la cazzo di sottofondo vuoi fare la stessa gara così vediamo chi arriva prima Troy no eccolo vediamo anche di qui oh davanti davanti è un po' difficile se fai il pennato al controllo no come si chiama tron no no una polizia con le ruote bucate dai 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 che sfiga si la polizia che non mi ha trovato corri l'utista ma che bella cerchione di fuoco si ma che se stai buttando via tutto e lì non puoi ripararla no non lo vuoi ripararla anzi ti do' far fare la gara con le ruote dietro si ma non vale fare la gara con le ruote dietro si ma del sistema nella gara si è lontano ti faccio fare no 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 ti faccio fare la stessa aveva detto tutti si così no no oh perchè ti fai le domande risponde anche da solo ma perchè non sono tutte edifici dici che è diventato ecco una piccola perchè le ruote bucate o forse è la stessa però vabbè non mi ricordo ho preso un autorelox in pieno così almeno non veda che velocità stava andando almeno lo tramortisci ah infatti oggi dato che sono a casa di Aran come sempre ormai volevo tramortirlo con una pizza e ma come va fuori? oh però ci sta con la macchina si stanno dicendo che vuoi tramortirti con una pizza per favore vuoi tramortirlo con una pizza e poi rubargli la casa mmm sono delle idee che potresti riuscire a farcela soprattutto tramortirti con una pizza minima ma che bella che lascia le fiamme si ma c'è qualcosa dietro che non va sulle ruote guarda come vanno sembrava il film mi sembra che si chiama non l'ho mai visto nemmeno io e allora sta zitto oh c'è sopra una macchina esattante adesso le ruote te li metterà a posto no c'era sopra una macchina eh vabbè c'era ma stiamo a testa si scrive la canzone ah no where ah ah si è fatto male ah ah sono fatto la bua mamma mia che bene l'auto così spero che dovete arrivare almeno a questo minuto perché siamo all'undicesimo minuto ah non stai scherzando te lo giuro è vero l'undicesimo minuto ma si dai ti lo facciamo ma si dai ti lo facciamo ma va 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 ah 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 sì è del mio cloro thinker penso bing mi sassi si si bello si bellissimi arriva al massimo 155 con le roto bucate Mizzica sta vibrando come un matto il mio joystick ta la la miiii pignoti ma puoi morire? caspita sti che mori no 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 ma è stata un Audi A3 che è venuta addosso siamo al centro Milano qui c'è la corretta zettare uno ma non te la prendo basta e devi farla con la stessa macchina anche se non so se è la stessa gara però spero di si cos'è che viene fuori quando accederi tanto? non lo so se non ci mettiamo più ad andare alla gara che farla dc ma si è messo e siamo qua qui 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 ok ecco adesso gioco buona che belle auto la venta torse come si accelera ma che schifo allo trovarla è tutto bagliato sto coso bene non vi bravo però ehm il fatto di trovarsi ma schiaccio cosa aiutare come si va ad accelerare come qualsiasi gioco per sparare sopra il Call of Duty e girare su come girarsi hai fregato già il freno a mano? ah era il freno non lo so cosa hai schiacciato? ehm x x si è il freno a mano però il freno a mano non il freno il freno a mano non il freno ovviamente non siamo nerd almeno io non sono nerd nemmeno io cioè io faccio calcio se sono arrivato al Master Prestigio perchè sono bravo e basta io faccio calcio vuol dire e cosa vuol dire? che i nerd non fanno calcio che cavolo stai suando? non hanno una vita sociale i nerd ma cosa vuol dire? allora non vanno neanche a scuola allora tu non hai amici stazio ma che cavolo allora tu non saresti qui? io non esisto e poi ti sto sfruttando e poi ti sto sfruttando si ma penso che vinci ti sto sfruttando perchè voglio i tuoi patelli non porti patelli non porti patelli questo è quello che credito oh esaltante devo dire questi due ruote nudo ah c'è più niente da fare una parola con l'interno mi senti test io me la sollevo se piccolo sei nato nudo e grazie ma te che vi ho visto il tracciato prima ma non sai che non ti devi schiantare ma sei solo tu che sei un cretino che dato che c'era il check in di la il check in il check in il check in si ma check in è quello che abbiamo fatto in spagnolo oggi si è il check in quello che ti spara appena ti vedi ti fai kick e scoop ti fai kick e scoop orca eva ti fai kick e scoop si ma non vale sta facendo una gara così kick e scoop kick e scoop kick e... vabbè fammolo posizione quarto quanto manca alla fine un chilometro e due un chilometro e uno un chilometro non scantati mi sembra che mi sento l'ansia che 2 2 2 no non 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 sono scantato c c'è un bambino il disting vingono vingono il sindaco la città al bambino 2 il mio alberto allo v alberto il disco mettiamo la canzoncina della mia nuova sigla il sito vado a cambiare altri che questo procede deve essere la lancia delta però mentre mettere la sigla non cantare non canticchiare vi faccio vedere che qui c'è una ah no, qui c'è la stone martin v8 vantage o forse la v12 si infatti c'è la v12 vantage questo sbagliato eh? adesso adesso zitto eh e qui lancia delta che bello che bello che bello perciò no no Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Non mi ne Grazie a tutti.